Ciao ragazzi sono Simon88 e lui è? Filippo. Allora scusate per la mia voce ho un po' di mare di gola però volevamo portarvi lo stesso il video di tutte le sorprese che abbiamo trovato nelle uova di Pasqua 2024, è vero Filippo? Sì. E volevo farvi vedere tutte le sorprese che abbiamo trovate. Allora siccome ne abbiamo aperte tantissime e abbiamo tante sorprese volevo mostrarvi le sorprese e poi diteci voi nei commenti quale secondo voi sono le più belle. Però prima vogliamo ricordarvi di lasciare sempre un like e iscriversi. Bravissimo Filippo così i nostri amici non perderanno i nostri video. Allora incominciamo a fare vedere i regali più grandi che abbiamo trovato. Allora abbiamo trovato la palla di Bing dentro all'uovo di Bing della Dolphin vero? Scusate per la voce ancora. Questa la mettiamo un attimo qua. Questa è la palla vedete? Con tutti i personaggi. No tutti. Bravissimo. Questa la mettiamo un attimo lì. Poi abbiamo trovato la spada nell'uovo dell'Eurospin. Ragazzi che si gonfia. Bravissimo. Questa è che si gonfia ragazzi guardate qua come grande. Posso girate? E la mettiamo un attimo qua. Tutto il resto li metteremo dentro questo sacchetto. Sì. Allora abbiamo trovato... No lì c'è altro questo. Questo l'abbiamo trovato dentro a un uovo di mi sembra 2 euro. Guarda tutto l'ho sotto attrappadato. Sì ci ha regalato il nonno. Il nonno aveva trovato questo. Per la sorellina. Per la sorellina. E lui ha trovato questo. È tipo un cappello ragazzi. Un regalo da poco niente. Poi abbiamo trovato le luci. Ragazzi. Uno Chase. Fai vedere lì come ti ho spiegato. Così guardi. Questa è la luce di Chase. E questa è? La luce di Pazza. Di Masha. L'abbiamo trovato dentro le uova del Papa Troll ragazzi. Sono due lucine. Sempre belle. Dai niente male. Poi allora abbiamo quello di George. Fai vedere quello di George. Sì. Guarda te l'abbiamo perso uno. Allora facciamo vedere qua. Allora qua. Vedi? Vedete? Queste sono... L'abbiamo trovato nell'uovo di George. E questo? E questo? C'era anche questo. Sì. Dolce per lo sano. E quello che abbiamo perso. Ok. Mettiamolo dentro. Sì. Poi abbiamo trovato questo. Il braccialetto nell'uovo di cioccolato fondente. Sì. È un braccialetto con dei dadi. Con dell'elastico. Molto molto bello. È il prete della mamma. Che era quello per la mamma. Poi abbiamo trovato le carte. Di Playdor. Di Playdor. Per giocare al gatto nero e al domino. Nell'uovo di Playdor. Della Icam. Poi abbiamo trovato... Sigurine. Le abbiamo detto qua dentro. Queste sono le figurine che abbiamo trovato. Allora. Potere... Aspetta. Aspetta. Facciamo vedere così. Potere. Facciamo una cosa veloce. Le figurine che abbiamo trovato nell'uovo... del calciatore panini. Del calciatore panini. Che c'era la speciale. Che era questa ragazzi. Sì. Se riesco a trovarla. Che era questa la speciale. Sì. La speciale di tutti. Tutte queste sono quelle che poi si attaccano all'album. E questa? Anche quella si attacca all'album. Scusate per la voce ma c'è un po' di mar di gola. Vero Filippo? Sì. Poi abbiamo trovato... Lo scarabeo della Melegatti. Che avevamo aperto sul canale. Se avete preso il video recuperatelo. Poi l'abbiamo trovato qua. Vai vedere. Aspetta. Andiamo a vedere se facciamo aprirlo. È uno aperto. Le calamite. Le calamite. Aspetta. Aspetta che le botto. Aspetta aspetta qua. Qua ci sono delle calamite. Che praticamente è quello di Trolls 3. Trolls 3. Vedi l'altra parte. Non riusciamo a montarlo perché... Va montato sul... Va montato sul... Aspetta dai. Mettilo qua dietro. Fabi. Allora abbiamo trovato questo che è quello della Trolls. Che adesso non lo stiamo qua a montare nell'uovo di Trolls 3. Lo mettiamo dentro qui. Qua abbiamo trovato questo. Che è una penna dell'Emojo. Scusate mi è caduta. Dell'Emojo. Vero Filippo? Sì. Guarda dai prendi un'altra. Che cosa abbiamo trovato? Sì. Abbiamo trovato questo dove? Nel luogo di Stambul Guys. Questo l'abbiamo trovato nel luogo di Stambul Guys. Ragazzi. Quello grande. Quello grande. Quello grande. E' un portachiavi. E' un portachiavi. Esatto quello piccolo. Poi abbiamo trovato questi qua. Nel luogo della Trolls. Nel luogo della Trolls. Nel luogo della Trolls. Nel luogo della Trolls. Poi. Polaretti. Questo mister Polaretto. L'abbiamo trovato nell'uovo dei Polaretti. Si chiama Polaretto. Si chiama mister Polaretto. Si. E' un peluche. Si. A te Polaretto. Anche Polaretto abbiamo trovato. Un gattino. Poi abbiamo trovato un gattino nell'uovo della Lind. No della Lind. Nell'uovo dell'Idol. Molto molto bello. Della Lind abbiamo trovato questo. Vedete. Ancora è chiuso. C'è scritto Lind. E' una collanina. E' una collanina. Che ancora non abbiamo aperto. Vedete quante ne abbiamo aperte. E ancora ne abbiamo tante da far vedere. E questo? Anche questo l'abbiamo trovato nell'uovo della Lind. Al fondente. E' una catenina. E c'è tutta la tassa. Vedete. Questo nell'Indoor. Nella Lind. L'Indoor. E' quello fondente. E' una catenina che ancora non abbiamo aperto. Nell'uovo della Lind. Poi abbiamo trovato questo dentro. Con la macchina. Trad. Che c'era la macchina da. Quella da. Quella da. Quella che abbiamo. Come si chiama. La macchina da. Da guidare. Quella con le pile. Sì. Che è l'esterna. Che l'abbiamo trovata. in quello lì. Nel Mega Uniboxing. Vero Filippo? Perché abbiamo fatto anche un Mega Uniboxing. Sì. A Pasqua. A Pasqua. Se avete perso il video recuperatelo. Poi abbiamo trovato questo. Uovo della. Eh. Questo non mi ricordo che uovo era. Però. Vero io. Se andate a recuperare l'uovo del Mega Uniboxing. Lo trovate. Poi. Veroce dai. Italia. Abbiamo trovato l'uovo. Eh. No. Nell'uovo della Bauri dell'Italia. Il Cavatappi. Questo. Vedete. Avevo tipo una calamita. Ma è anche un Cavatappi. Pottolino. Poi. Qua. Qua. Mi ha trovato. Un motorino dell'uovo della. Delle. Delle. Della Linde. No. Della Linde. Dell'Idol. Scusate. Mi sbaglio sempre cavoli. Sì. E questo abbiamo. Qua. Mancano. I sedili. Perché. Non sappiamo dove sono finiti. Sì. E ora abbiamo. Il petto. Deve. 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 L'uovo. Del Dino Ranch. Ragazzi. È tipo. Un peluche. Poi. Abbiamo trovato. Anche questa. Tartaruga. In un altro uovo. Che non ci ricordiamo. Dove. Sì. L'uovo del bambino. L'uovo del bambino. Ok. Ok. Poi. Abbiamo trovato questo. Nell'uovo. Di One Piece. Sì. Solo te l'hai aperto. Questo l'ho aperto solo io. Se avete perso il video. Andate a recuperarlo sul canale. Sì. Poi. Poi. L'uovo gigante. L'uovo gigante. Abbiamo trovato questo. Quello da. Da. Quattro chili. Ragazzi. Da 500 grammi. Scusate. Da 500 grammi. Abbiamo trovato questo. E dietro. Poi abbiamo trovato anche. Sotto l'altro piatto. Nella galaxy. Abbiamo trovato questo. Che è il domino. Con tutte le sorprese. Se avete preso il video. Andate a recuperarlo. Poi prendi Pinocchio. Potete. Eh. Mi hanno trovato anche Pinocchio. Mi hanno trovato questo. Ragazzi. L'astuccio. Nell'uovo di Pinocchio. Poi abbiamo trovato anche. Del Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli. Questa spilla. Vedete quanti ne abbiamo aperti. Ragazzi. Sì. Non l'abbiamo trasferito. E ancora non l'abbiamo finito. Poi abbiamo trovato questa macchinina. Con i suoi adesivi. Che ancora non l'abbiamo attaccato. Sì. Che è quella che si rompe. Che è quella che si rompe. Sì. Non serve la palla. Che praticamente questa è quella della Dolphin. Del Trash on Trash. Si chiamava. Una cosa del genere. E non serve la palla. No. Non serve. Si rompe e si smonta. Sempre trovato nel Mega Uniboxing. Del video. Lo dobbiamo sempre dire. Poi abbiamo trovato. Questa. Questa pecorina. Del uomo del. Del uomo del Toys. E' un uomo del Toys. Toys. Sono andato io con il donno a prenderlo. Eh. Lui è andato lui con il nonno a prenderlo. E adesso arrivano quelli della Kinder ragazzi eh. Buono. Buono. Allora. Lui vuole finire la serie. Ma ancora non l'abbiamo finita. Poi. Poi. Questa è quella della Kinder di Dragon Ball. Questa è la casa. Batti direi. Poi abbiamo trovato questo nella Altuis. Si. Ragazzi. E' la prima che abbiamo trovato. Del Mega Uniboxing. Eh. Nel Mega Uniboxing l'abbiamo aperta. E questo Iei. E questa l'abbiamo aperto. Per i fatti nostri. Abbiamo trovato questa. Ragazzi. Ce ne mancano altre due per finire la serie. E questo. No. Tre. Altre due. Sono quattro. Sono due. Vedi. Questo. Poi. Fai vedere la serie completa. Cosa abbiamo trovato qua. Allora. Abbiamo. Poi ci abbassano tutti. Allora. Abbiamo. Pluto. Pluto. Che l'abbiamo aperto in un video ragazzi. Molto molto bello. Pluto. Bellissimo. Si. Con la sua subbia. Con la sua forma. Poi. Poi. Paperino. Che c'è? Abbiamo aperto. Poi abbiamo. Paperino. Abbiamo trovato. Ragazzi. Anche qua. Vedete? Si dai. E alla fine. Topolino. Poi abbiamo qua. Topolino. Con. La sua forma. E abbiamo finito la serie. E abbiamo finito la serie. Perché erano solo tre. Poi. Per chiudere questo video. In bellezza. Si. E' bello. Bellissimo. Il mio tattore preferito. Bilacruz. E' il suo tattore preferito. Ragazzi. Abbiamo trovato allora. Questo. Come si chiama questo? Mr. Bug. Mr. Bug. E poi abbiamo trovato? Questo. Questo. Con le ali. Si. Si illumina al buio. Con i suoi braccialetti. Che si illumina al buio. Con le ali. Ragazzi. Con i suoi braccialetti. Si. E per finire. Abbiamo trovato. Come si chiama questa? Lady Wall. Lady Bug. No. Lady Wall. Lady Wall. Lady Wall. Non ci ricordiamo il nome ragazzi. Si. Allora. Lady Wall. Lei. Lei. Lo usa mai. Questo. Biracchus. Lui lo usa. Ma questa volta. Ci sono cambiati. Biracchus. Ah. Si sono cambiati. Miracchus ragazzi. Si. Bisogna. Sapere. Bisogna guardare il video. Per sapere. Tutte le cose. E poi. C'erano anche questo qua. Che si illumina. Al buio. Questo. Anche questo. Si illumina al buio. Allora. Ragazzi. Abbiamo finito. Avete visto. Quante sorprese. Noi ragazzi. Spero. Che. Le sorprese. Che abbiamo trovato. Vi sono piaciute. Diteci nei commenti. Quali. Secondo voi. Vi piacciono. Di più. E noi. Ci vediamo. In un prossimo video. Saluta. Filippo. Ciao. Ti raccomando. Iscrivetevi al canale. E lasciate sempre. Un like. Questo. 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 Era un video. Per farvi vedere. Le nostre sorprese. Della. Pasqua. Ciao. Ragazzi. A un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.